ciao a tutti e benvenuti oggi in questo video di youtube vi voglio far vedere come ho modificato la mia stazione ricarica aggiungendo una lettura rfid per poterla bloccare il wallbox testava in un parcheggio privato all'esterno ma non si sa mai prima che qualcuno venga l'idea di caricare la macchina a mio costo ho aggiunto questa modifica della stessa marca esiste anche una stazione con lettore integrato però costa un po di più e qui vi faccio vedere con pochi soldi come si può fare qualcosa di simile ma bando il ciancio e vediamo cosa ho fatto per tutto quello che serve mi serve un arduino possibilmente uno mini che almeno ci sta un modulo fd per l'arduino io ho preso l'edm 6300 un relais ci serve anche un'antenna per leggere le carte naturalmente alcune carte fd e un po di software vi lascio in descrizione i link dove ho preso il tutto come prima cosa dobbiamo collegare la scheda per la lettura delle carte fd al arduino per questo ho trovato su internet lo schema e per provare ho collegato il tutto nell'arduino normale con i cavi provvisori praticamente il mio test bench dopodiché ho definito la logica quando metto la carta l'ele deve chiudersi e quando rimetto la carta e l'ele deve aperirsi quindi ho collegato l'ele ho collegato un paio di led per vedere se funziona bene il tutto e ho scritto il software quindi proviamo mettiamo la carta l'ele si apre mettiamo ancora la carta e l'ele si chiude perfetto come volevamo adesso si tratta di collegare il tutto sul nostro arduino nano e poi vedremo di inserire il tutto nella stazione e collegarlo visto che quando il tutto nella stazione i led non si vedono ho pensato bene di cambiare il tutto con un buze un bip che quando metto la carta fa un bip quando tolgo la carta fa due bip o qualcosa del genere non si sente comunque diciamo che il tutto potevamo anche risparmiarcelo bene adesso dobbiamo saldare un po di cose vi faccio vedere un po non sono un genio della saldatura per cui ho saltato le cose come andava funziona poi devo mettere il tutto nella wall box e è fatto ho aggiunto ancora il software per poterle aggiungere e togliere le carte in modo che non sono art coded nel codice c'è una carta la prima che viene remessa viene presa come master e poi tutte le carte che metto dopo possono essere aggiunte o tolte a dipendenza quando ho finito il programmare e metto la mastercard e siamo a posto il tutto è spiegato nella documentazione oppure chiedetemi pure sulle nei commenti vi spiego come è fatto perché sennò diventa il video lunghissimo quando il tutto è finito saldato è il software sul tutto io direi di leggere già le carte in modo che quando si leggono le carte vedo l'output nel mio debugger sul computer e poi smontiamo la stazione e poi smontiamo la stazione di ricarica abbiamo dove c'è l'elettronica attacchiamo il nostro relé all'interruttore X1 dove viene chiuso e aperto mettiamo il dip switch giusto in modo che quando l'interruttore è aperto non carica e quando è chiuso carica leggete pure l'istruzione della stazione di ricarica attacchiamo l'USB per l'alimentazione alla porta di update del firmware della stazione l'antenna si trova sulla destra incollata contro la parete e adesso vediamo se funziona appoggio la carta e diventa verde, si funziona benissimo qui vediamo ancora il mio Arduino e il relay attaccato all'X1 è sempre tutto a posto, sopra c'è la schedina per la lettura non è molto carino come è tutto messo assieme, comunque lì vedete anche l'antenna attaccata alla parete si vede, ecco sposto un po' i cavi così vedete l'antenna lì adesso chiudiamo il tutto vedete ancora qua l'ultimo sguardo prima di chiudere avvitiamo e poi vi faccio vedere come funziona qua è la stazione pronta lampeggia in blu vuol dire che è bloccata prendo la pistola, posso attaccarla alla mia macchina apro la porta e via come metto la pistola vedo che è in mani blu vuol dire che si è collegata alla stazione di ricarica ma non ha corrente bene, allora prendo una carta autorizzata e sulla destra dove c'è l'antenna ho fatto anche un simbolo fuori appoggio la carta la legge e diventa vede vuol dire che la macchina carica adesso guardiamo la macchina e anche la macchina vede vuol dire che sta caricando se il mattino voglio partire faccio l'operazione inversa la macchina sta caricando è verde passo la carta diventa blu mi è bloccata posso staccare la mia macchina e se qualcuno vuole caricare o vuole cercare di robarmi la corrente non la riceve per cui è tutto a posto bene, spero che vi è piaciuto il video se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto mettete su like e ci vediamo la prossima volta ciao